Manolo Mocero, brutta sconfitta la domenica, ma si ricomincia comunque dal primo posto? Sì, purtroppo è arrivata questa sconfitta dopo dieci risultati utili consecutivi. Magari è forse l'unica partita dove non ti aspettavi di perdere, perché comunque giochiamo con una squadra in difficoltà, però è ovvio che quando si cambia allenatore magari ci sono dei meccanismi diversi. Comunque hanno fatto una partita, forse è una delle migliori loro del campionato e siamo caduti in questa sconfitta, che però deve essere solo un incidente di percorso e dobbiamo ripartire subito da domenica, perché in palio ci sono tre punti importantissimi. Forse farrebbe un po' come è arrivata, loro giusi in difesa, palle lunghe, il Corenzi invece ha provato a giocarla veramente la partita e per mera sfortuna non ci è arrivata, sembrava stragiata pure alla porta. Sì, diciamo che il primo tempo purtroppo l'abbiamo regalato, perché abbiamo giocato poco, anche perché loro non ci consentivano di giocare, però poi al secondo tempo siamo usciti fuori bene, abbiamo avuto quelle due palle gol dove potevamo andare in vantaggio, poi si sapeva che chi andava in vantaggio negli ultimi dieci minuti è dura recuperare, quindi siamo stati sfortunati a non andare in vantaggio e poi abbiamo subito questo gol all'ultimo minuto, poi c'era poco da giocare e non abbiamo avuto nemmeno il tempo di riprendere la partita. Le vittorie ieri di Casertanella-Mezia dicono anche che Sopra si è fatto un gruppone e che questo campionato non è vero che si è già definito. Ma non è definito assolutamente niente, è un campionato che si sapeva già dall'inizio dove è molto difficile, magari il risultato dove può essere scontato, tipo il Teramo domenica, ti ritrovi con una sconfitta in casa e quindi si rimette tutti in gioco. Sono partite dure, tutti quanti vanno giocati, ogni partita ha la sua storia, l'odimo se è fatto, come ti dicevo prima, che il Teramo domenica persino in casa e ieri è andato a vincere alla Mezzia, quindi sono squadre strane, quindi vanno prese tutte le partite con la giusta attenzione perché è giusto che sia così. E poi alla fine, secondo me, si delineerà qualcosa verso marzo, a fine febbraio. Come sta il piede destro di Manolo? Sta bene, sta bene. Da ora sono due partite con calcio in porta, però sta bene. Speriamo che domenica riesco a fare gol, farmi un regalo personale a Natale. Prima di tutto la vittoria, poi è ovvio che se riesco a fare gol, meglio ancora. Due parole su Martina Franca? Martina Franca classifica e bugiata, comunque è una squadra che si mette tutti dietro la palla, non ti fa giocare, ci sono pochissimi spazi, dovremmo stare molto congendrati e non perdere la testa tranquilli perché prima o poi secondo me il gol lo troviamo. Non dobbiamo spazientarci perché sarà una partita dove loro si metteranno lì dietro a coprire ogni buco, ogni spazio e dovremmo trovare il modo giusto per trovare l'imbucata per fare gol. Anche per sfatare questa sindrome San Vito? Infatti, sono due mesi che non vinciamo al San Vito, molto tempo. Penso che il San Vito per noi non si possa sbagliare perché comunque la maggior parte delle squadre e la salvezza cercano di costruirla soprattutto in casa, quindi noi fino adesso abbiamo fatto meglio fuori casa. Spero che domenica si inverta la rotta e iniziamo a portare a casa i tre punti nel nostro stadio che magari è più bello anche per i tifosi che vengono a vedere la partita e festeggiare i tre punti a fine gara. L'appello ai tifosi l'ha fatto il presidente, l'ha fatto l'allenatore, l'ha fatto il capitano? Ma è ovvio, l'appello ai tifosi è normale che si debba fare sempre perché a noi ci possono dare una grossa mano. Speriamo che domenica sia una bella giornata di festa e di sport dove sugli spalti ci sia. Spero almeno di vedere le persone che c'è con il Foggio, tutto Cuoio, il Sorrento perché se così sarà avremo una spinta ulteriore per vincere la partita.